Adesso lascio la parola al Luca Celada, il corrispondente proprio della California del Manifesto, che quindi conosce molto bene quella realtà. Ha pubblicato proprio a febbraio un articolo molto preciso e dettagliato sulla questione della quotazione del future sull'acqua nella borsa di Wall Street e che quindi ci potrà dare sicuramente un contributo molto puntuale su questo aspetto, su questa faccenda. Grazie Luca per essere con noi, anche a te dieci minuti. Grazie, grazie a te, grazie a voi per l'invito e grazie a tutti quanti stanno partecipando. Aggiungo il mio ringraziamento al professor Arrojo. È, vorrei dire, confortante sapere che c'è un rappresentante nostro, diciamo, fra i potenti del mondo che individua con tale precisione e lucidità i punti cruciali del problema. E vorrei anche ringraziare tutti gli altri intervenuti che hanno ognuno fatto dei contributi molto precisi, mi sembra, per inquadrare il problema. A Dacia Maraini, scusi, vorrei dire che anch'io non sono un grande esperto, ma so che ci sono stati esperimenti qui negli Stati Uniti con biosistemi, le ostriche per esempio nella delta del Delaware come agenti purificanti, e in California microfiltraggi già implementati da aziende municipali, per esempio di acque nere, di liquami, al punto, usando per esempio filtri di osmosi inversa, al punto di rendere queste acque potabili. sta già avvenendo, vengono poi reinserite nelle faglie acquifere, ma sarebbero potabili anche direttamente, lì si pone un problema psicologico, soprattutto per convincere la gente ad accettare questo sistema. ma è indicativo, credo anche, di quello che molti altri hanno individuato come il padre Zanotelli, di un messaggio, credo, che il pianeta ci sta inviando ormai, perché questo problema delle risorse, in questo caso quella più vitale dell'acqua, si sta unendo a crisi come quella climatica, come la pandemia, che sono ormai direi sistemiche e globali, che rendono ineluttabili le questioni che gruppi come il vostro stanno ponendo già da anni. E vorrei anche ricollegarmi a quello che ha detto padre Zanotelli e anche Emilio Molinari, che esistono delle sovrastrutture, dobbiamo renderci conto, quella finanziaria particolarmente, che sono al di sopra ormai dei governi, degli stati nazionali. E qui probabilmente è utile individuare in questi sistemi il problema, il nucleo, e forse spiega anche perché un referendum come quello italiano, d'avanguardia, non sia stato ancora implementato. Anche dove esistano le leggi, è utile rendersi conto che è qui il caso californiano e americano. Forse il senso del mio intervento vuole essere un po' una cartolina dal futuro, da un luogo, il centro del sistema unico, del liberismo, della privatizzazione, che è paradigmatico, per usare una parola usata da Molinari, proprio degli sbagli di ciò che non bisogna fare. Allora, le lotte forse possono essere impiegate tattiche come il deinvestimento, che diceva padre Zanotelli, forse più utilmente che altre. Sistemi che hanno portato, per esempio, alla caduta dell'apartheid. Ricordiamoci, se individuiamo nelle banche, nella finanziarizzazione, un po' il centro del potere, del problema, forse lì vanno dirette anche le lotte. La California è una specie, è paradigmatica, come dicevamo Molinari, e da osservatore qui forse una breve storia di quello che è accaduto sulla crescita, sulle risorse, in particolare con l'acqua è utile. Le terre dell'Ovest americano furono definite da uno degli pionieri che per primo le indagò ed esplorò, John Wesley Powell nel 1870, o giù di lì, colonnello reduce della guerra civile, esplora il Colorado, lo Utah, la California, insomma naviga per primo il fiume Colorado, ne fa una cartografia, fa una famosa relazione al governo federale e indica, secondo lui, già da allora, un problema reale. Mi sentite di nuovo? Adesso sì, adesso sì. Ma scusate, c'è stato un problema di linea. Allora, stavo raccontando un po' l'esplorazione di queste terre aride che da un lato sono l'oggetto della conquista e dello sviluppo che il paelese vuole. Dall'altro, l'esploratore stesso, Powell, indica subito che non esiste sufficiente acqua per garantire questo sviluppo. Viene messo in minoranza, scartato dalle forze politiche e commerciali che invece propongono il modello di sviluppo. Per ottenere questo sviluppo viene messo in campo, particolarmente in California, un'enorme opera infrastrutturale di ingegneria ambientale che, sfruttando le montagne, i laghi, il fiume Colorado soprattutto, deve avere gli abitanti in terre che sono desertiche sostanzialmente. Allora, oggi arriviamo, 150 anni dopo, a quello che Powell aveva, diciamo, profetizzato. Una sostanziale insostenibilità dove le risorse sono arrivate al limite anche per l'influenza di un cambiamento climatico che ha esacerbato il problema di fondo. E quindi, mentre da un lato questo è paradigmatico appunto, molto evidente, è allora la California che nel frattempo è diventata la fonte della quasi totalità di molte culture, delle noci, di molte frutte, delle prugne per l'intero paese, si trova davanti alla prospettiva di ridesertificazione o quantomeno aridificazione. Mentre avviene questo, c'è invece l'altro paradigma, quello liberista che raddoppia la posta sul modello sbagliato. Quindi la privatizzazione, la finanziarizzazione e la speculazione su, diciamo, la risorsa che come spiegava Arroco è la risorsa della vita insostituibile. È un film che abbiamo già visto, non solo nel caso dell'acqua, ma se guardiamo ciò che è avvenuto negli ultimi 10-15 anni, ci sono stati intanto il crack del 2008 che era una speculazione su un alto bene primario, quello della casa. Quindi i mutui spazzatura venduti alla povera gente, sostanzialmente da multinazionali, hanno creato una bolla che poi ha provocato il quasi collasso dell'intero sistema e una crisi planetaria. Prima ancora c'è stato il caso della Enron, una multinazionale pirata quasi, che ha speculato sull'energia elettrica, proprio usando ancora una volta il mercato californiano, che era stato liberalizzato e privatizzato, al punto di permettere ad entità corporative di acquisire diritti di trasmissione dell'elettricità e influire sull'approvvigianamento creando scarsità artificiale per poi realizzare enormi guadagni. Si sta ripetendo uguale questo sistema, prendere una risorsa vitale ma scarsa per potervi speculare sopra. Non c'è alcuna incertezza sull'esito di questa operazione folle, si va in quella stessa direzione. Quindi è importantissimo prendere ad esempio ciò che avviene, rendersi conto che questo non è un problema, anche se viene usata l'acqua agricola in California, proprio perché qui è scarsa, ma poi questa speculazione viene immessa nei canali finanziari globali, in pacchetti azionari, pacchetti di investimento, strumenti finanziari, che ci ritroviamo nei fondi pensioni anche di un piccolo paese in Italia. insomma, quindi è ancora una volta una sovrastruttura che scarta anche le migliori intenzioni degli stati nazionali. Bisogna, secondo me, è utile recepire, imparare il modello, recepire il messaggio del mutamento climatico che in un luogo già al limite della sostenibilità, come in California, sta rendendo ineluttabile il limite e porterà ad un'inevitabile decrescita che sarebbe stato più utile prevedere e programmare in maniera sostenibile. Perché un altro errore è quello che è avvenuto anche qui in California, di fronte a questa enorme aridità e siccità, delegare al mercato modelli di conservazione. È stato chiaro quando nel 2015 c'è stata una siccità drammatica durata due o tre anni che ha reso insomma, non c'era più acqua sufficiente per i cittadini di Los Angeles. Quando è stato aumentato il prezzo e sono state implementate diciamo una scala in cui chi consumava di più pagava di più, i cittadini più facoltosi famosa una petizione di abitanti di Beverly Hills hanno detto a noi non importa quello che costa paghiamo il triplo anche dieci volte di più ma la piscina la vogliamo riempire per ricollegarmi a una cosa che ha detto Arroco. Quindi non si può fare affidamento unicamente sul mercato per modificare ma serve la coscienza generale e la mobilitazione come quella del forum. direi che questo è quello che avevo da dire da qui ancora una volta utile studiare bene i sistemi che hanno nella quotazione in borsa il loro culmine individuarli e cercare veramente di contrastarli in questo momento critico. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.